a sì ok sì a io 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 eh no no, anzi, mi dirò di più, l'hai preso prima ancora vuol dire che già sapevi di diventare un colletto bianco per merda che c'è l'acqua lui è una merda io non parlo, è una macchina? eh, foto, no, è video si no, è video no, è video no, è video no, ho video no, ho video no, ho video Non è stato un'altra cosa, eh? Ah! Ah! Non si può fare più, eh? Non si può fare un'altra? 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.